Per il secondo anno consecutivo al Teatro Palladium alla Garbatella si è reso omaggio a Luciano Bianciardi. Lo scrittore, con le sue opere, in particolare La vita agra, ha contribuito a fornire un'attenta analisi dei costumi sociali nell'Italia del boom economico, evidenziandone tutte le contraddizioni. Quest'anno Bianciardi avrebbe compiuto 101 anni e la scrittrice Maria Iatosti, sua ex compagna di vita, ha voluto ricordarlo nuovamente al Palladium, un luogo per lei caro e legato al suo passato. Il Palladium è la Garbatella per me, sono la mia vita veramente. Poi il fatto è che l'ho riscoperta di recente perché sono stata via molti anni, sono stata a Milano, poi sono tornata a abitare in un altro quartiere e poi mi hanno ripescato e da allora non ci siamo più lasciati. È un grande amore, continuiamo a collaborare, a fare queste cose. Questa cosa è stata una ripresa rispetto a quello che abbiamo fatto anno scorso, che cominciò le due del pomeriggio e finì che erano le dieci di sera. Sapete che cosa è stata, no? Una grande, grande, grande fatica, però compensata, ricompensata largamente dal successo e dalla risonanza che ha avuto. Sul palco si sono alternati il filosofo Donato di Stasi, la professoressa Monica Venturini e il regista Francesco Piccolo. Ricordare i Bianciardi è importante sempre perché è uno dei grandi scrittori italiani, dei grandissimi scrittori italiani e però non tutti sanno di questa grandezza e non tutti sanno i libri che ha scritto, le cose che ha fatto e quindi ricordarlo continuamente significa cercare di arrivare a persone che non lo conoscono. In chiusura è andato in scena Amore, Donne, Guerre e Disastri, uno spettacolo musicale e teatrale tratto da vari testi di Bianciardi. La manifestazione, patrocinata dall'Ottavo Municipio, ha visto la partecipazione dell'Associazione Cara Garbatella che ha contribuito alla realizzazione dell'evento. Viva Cara Garbatella del mio cuore!